Ciao a tutti ragazzi, io sono Luca e oggi siamo qua in un nuovo video. Quello di ieri è andato male perché avete messo 2 mi piace e 13 visualizzazioni, quindi voglio 10.000 like per il prossimo video e tante visualizzazioni. Vi prego, oggi sono in un nuovo video per farvi vedere la mia borsa dell'Adidas. Eccola, la mia borsa dell'Adidas è nuova di marca. Ora qua, poi dietro e di dentro ragazzi, eccola, se ci è riuscito a vedere quello di sole, perché c'è il sole che arriva nella borsa e poi qua ragazzi. Mi sta piuttosto bene la borsa perché è molto, molto, cioè molto piccola per me dei ragazzi, quindi mi sta. Ragazzi, questo canale l'ho aperto ieri per farvi almeno vedere alcuni miei video e mettere tanti mi piace. Quindi ragazzi, se il video questo qua di oggi vi è piaciuto, mettete tanti mi piace e tanti visualizzazioni. Se volete il prossimo, se vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale, andate su mio Instagram, su mio Facebook e cercatemi dove volete, tranne su Twitter che non c'è, su Facebook e va. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi come Dottora e seguitemi. Ciao a tutti ragazzi.